Grazie Presidente. Come si può notare dalla lettura dell'oggetto della mozione, si richiede all'Aula di esprimersi, di richiedere al Sindaco e agli assessori compienti una valutazione su quello che è un provvedimento che è stato apparentemente richiesto dal tavolo pubblico e dal tavolo della sicurezza. Il tavolo della sicurezza che per aggiornare l'Aula si è riunito a fronte ai tragici fatti di San Lorenzo, di Desiree Mariottini che tutti quanti ricordiamo e che anche quest'Aula ha commemorato, in cui da quello che sembrerebbe a fronte di questa riunione del tavolo pubblico della sicurezza siano stati richiesti dalle varie istituzioni presenti a questo tavolo, perché per chi non lo sa è come se fosse una sottospecie con una funzione differente, però il senso è sempre quello, una sottospecie di conferenza dei servizi tra i vari enti competenti che devono deliberare, devono provvedere a suggerire all'ente competente ad adottare i provvedimenti in termini di sicurezza in casi specifici oppure in casi di urgenza e via dicendo. Bene, tra i vari punti emarginati da una nota del gabinetto del sindaco che appunto non fa nient'altro che riepilogare quelli che sono gli esiti e le risultanze di questo tavolo pubblico di sicurezza, sono stati richiesti l'adozione di nove provvedimenti. Tra questi nove provvedimenti il nono è appunto quello che si legge la richiesta di riapertura al traffico veicolare di Piazza dell'Immacolata nel quartiere San Lorenzo appunto, attualmente pedonalizzata a fronte delle richieste da parte delle forze di polizia territorialmente competenti di cui allega copia. Bene, quindi così messa insomma, sembrerebbe che comprensibilmente ad esito del tavolo della sicurezza, al tavolo della sicurezza, si sia, insomma, le forze di polizia abbiano richiesto di riaprire al traffico veicolare la piazzetta di San Lorenzo, Piazza dell'Immacolata. A ben vedere però, da quanto mi è stato possibile, vedendo poi gli atti che sono stati allegati a tale richiesta, che sono fondanti, che sono alla base di questa richiesta, diventa un po' più complicato, perché ovviamente se fosse realmente una richiesta della questura, così come, e qui mi preme sottolinearlo, così come è stata la proroga dell'ordinanza anti-alcol in Piazza dell'Immacolata, che non è stata una determinazione di questa amministrazione, ma è stata una richiesta vincolante dell'ente competente in materia di pubblica sicurezza, cioè quella sia della prefettura che della questura, di estendere appunto questa ordinanza anti-alcol, in questo modo è stata fatta una cosa differente. A sostegno di questa tesi infatti si vedono che ci sono due documenti, uno di maggio e uno di ottobre, del 30 ottobre, in cui presuntivamente ovviamente solo quest'ultimo documento, quindi quello di fine ottobre, è stato specificatamente emesso dalla questura e quindi proveniente dalla questura, è stato appunto adottato dalla questura a fronte del tavolo pubblico di sicurezza, che è quello appunto dell'estensione dell'ordinanza anti-alcol. A sostegno invece di questa richiesta di provvedimento e quindi della riapertura della pretenolizzazione di Piazza dell'Immacolata, c'è un documento proveniente sì dalla questura, ma che è in risposta ad una richiesta specifica del municipio secondo, cioè il municipio secondo per farla un po' più semplice e per essere anche più comprensibile, il municipio secondo presuntivamente prima di maggio del 2018 ha richiesto comprensibilmente alla questura un quesito, cioè ha chiesto ma se io apro Piazza dell'Immacolata in San Lorenzo aumenta la sicurezza e la questura su questa determinazione ha espresso parere favolevole. Ora, a ben vedere, così messa con questa evidenza, non è una determinazione dell'ente competente in materia di pubblica sicurezza, ma è semplicemente un'espressione di parere favorevole su un indirizzo politico proveniente dal municipio secondo che è stata inserita all'interno di queste risultanze e proprio perché essendo questo un indirizzo politico e non una determinazione dell'ente competente in materia di pubblica sicurezza mi viene da pensare che, cioè mi viene da pensare, mi rende forte il fatto che questa determinazione sia contestabile in questa sede, perché essendo un indirizzo politico può essere, perché se fosse differentemente, se fosse stata invece un'autonoma determinazione della questura così come l'ordinanza anti-alcoli c'era poco da sindacare, non credo che questa aula avesse il potere di poter sindacare alcun cliente al caso, ma così non è. Quindi, a fronte di questa difformità da un punto formale, ci permette a questa aula che richiede questo atto, di valutare politicamente questa riapertura al traffico veicolare di Piazza dell'Immacolata. E dal nostro punto di vista, che è stato poi condiviso con la Commissione Mobilità, o meglio, gli interessati a questa problematica, riteniamo, si ritiene, ed è quello che poi noi chiediamo con questo atto, alla fine in cui si impegna la sindaca raggiunta a valutare di non adottare definitivamente la prescrizione contenuta al punto 9 della nota XY e conseguentemente a lasciare interdetto al traffico veicolare Piazza dell'Immacolata nel quartiere San Lorenzo. Questa è una richiesta che secondo me è un po' come definirla? Secondo me che porta indietro, perché la tesi su cui si fonda questa cosa è che se il traffico veicolare viene riportato all'interno della Piazza dell'Immacolata, allora tutte quelle tematiche di sicurezza che comprensibilmente oggi attanagliano e preoccupano i residenti di San Lorenzo spariscono. Cioè, come per dire, se su una strada passano le macchine allora gli spacciatori e il malaffare sparisce. Che è un po' contraddittorio e che assolutamente è in contrasto con quella che è la nostra visione politica di città e di mobilità, che invece va in direzione totalmente differente. A fronte di queste considerazioni noi riteniamo addirittura, nonostante il parere favorevole che ribadisco e non cerco di nascondere, il parere favorevole della Questura, che nonostante poi ci sia il visto, il benestare della Questura su questo tipo di deduzione. Io credo, e noi crediamo, che seppur questo provvedimento possa portare un giovamento in termini di pubblica sicurezza, noi crediamo che il giovamento in materia di pubblica sicurezza sia estremamente limitato, estremamente limitante soprattutto, rispetto a quello che poi verrebbe sottratto al quartiere, in termini di vivibilità, in termini di socialità, in termini di attività di quartiere stesso. Cioè se la pubblica sicurezza aumenta da 1 a 10, 1, un miglioramento, noi crediamo che in termini di socialità e di vivibilità ci sia un impatto molto più forte e questo viene confermato anche da un'interpretazione specifica di queste due note della Questura. Infatti, se si va a vedere bene, specificamente per il tavolo della Questura, la Questura ha prescritto esclusivamente l'estensione dell'ordinanza anti-alcol. Questo perché? Perché la Questura, che immagino sia retta e ci siano delle persone di esperienza che hanno affrontato più di una volta queste tematiche, hanno prescritto solo una cosa, perché sono state coordinate con gli altri otto provvedimenti e addirittura l'adozione di questo provvedimento, cioè la riapertura del traffico a Piazza dell'Immacolata, sarebbe estremamente impattante, perché non è coordinato con gli altri otto provvedimenti che sono richiesti sullo stesso quartiere. Ed è per questo che la Questura saggiamente ha prescritto e ha adottato e ha fatto suo l'unico provvedimento, cioè quello dell'estensione dell'ordinanza anti-alcol, che poi personalmente anche questa è sindacabile, ma in questo caso, come abbiamo detto, questa è stata una determinazione della Questura, in quanto tale non sindacabile. Per questo motivo, appunto, noi, a fronte del fatto che abbiamo dimostrato che questo presunto risultante del tavolo della sicurezza è sindacabile e che viene sindacato in maniera assolutamente differente, perché è contraria addirittura a quelle che sono le nostre linee programmatiche in materia di mobilità e di vivibilità dei quartieri, chiediamo appunto al sindaco e alla giunta di non adottare, perché ricordiamo il provvedimento ancora non è stato adottato, il gabinetto del sindaco comprensibilmente ha chiesto all'ente competente, al dipartimento competente, che è quello di mobilità, di adottare questo provvedimento. Ma come abbiamo detto, noi richiediamo invece la non adozione di questo provvedimento, proprio per le ragioni che abbiamo spiegato. Poi mi riservo della dichiarazione di voto per esprimere, mi tengo per la precisazione delle conclusioni, del perché questo provvedimento, cioè la riapertura al traffico di piazza dell'Immacolata, non aiuti anche quell'interesse pubblico che viene presuntivamente tutelato, cioè la pubblica sicurezza, con questo tipo di provvedimento. Grazie.